Parla tifoso dell'Azzurra. Benvenuto su Notizie di Napoli, il tuo canale esclusivo di notizie sul Napoli. Oggi abbiamo una notizia calda che sta muovendo il mercato dei trasferimenti. Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha chiarito che rafforzare la difesa è una priorità per gennaio. E un terzino nel mirino dei dirigenti azzurri è niente meno che il capitano della nazionale brasiliana è un ottimo. Il primo, difensore della Juventus, avrà davvero luogo questa trattativa? Che impatto avrà questo sulla rosa del Napoli e cosa potrebbe guadagnare o perdere la Juventus con questo eventuale trasferimento? Prendi posto e mettiti comodo, perché oggi faremo un tuffo nel profondo di queste voci che stanno agitando il cuore dei fan. Antonio Conte non nasconde la sua visione del gioco. Una difesa solida è la base di ogni squadra di campioni. L'allenatore, fin dal suo arrivo al Napoli, ha cercato di rinforzare il settore difensivo con giocatori esperti, capaci di prendersi responsabilità nelle partite ad alta pressione. E quando si parla di esperienza, pochi nomi in serie aspiccano quanto Danilo. Il brasiliano, che ha avuto una brillante carriera in Europa, giocando per club come Real Madrid, Manchester City e ora Juventus, ha un curriculum invidiabile. Inoltre, Danilo è anche capitano della squadra brasiliana, il che non fa che rafforzare la sua capacità di leadership dentro e fuori dal campo. Tuttavia, la sua attuale stagione alla Juventus è tutt'altro che ideale. Sotto la guida di Cia Giumotta, il difensore ha perso spazio, diventando la terza scelta in un settore che non lo vede più come fondamentale. Questo calo di protagonismo ha aperto la strada all'ingresso in partita del Napoli. Conte e i dirigenti azzurri vedono in Danilo un giocatore fondamentale da affiancare al settore difensivo, che attualmente ha buongiorno e ramani da titolari. Danilo, con la sua versatilità ed esperienza, è riuscito non solo a competere per la posizione, ma anche a portare equilibrio nel sistema tattico di Conte, adattandosi sia a una linea a tre che a una. Linea a quattro difensori Secondo Gianluca Di Marzio, noto giornalista di mercato, l'interesse del Napoli è già arrivato alle orecchie di Danilo. E la risposta del giocatore è stata positiva. Vede il Napoli come un'opportunità per tornare ad essere protagonista, lottando per i titoli e giocando con regolarità per una squadra che valorizza la sua esperienza. Ma cosa è necessario affinché questo negoziato possa andare avanti? Nonostante l'interesse reciproco, alcune questioni devono ancora essere risolte. La prima e la più importante è la posizione della Juventus. Danilo ha un contratto in corso con il club torinese e, anche se poco utilizzato, la sua partenza potrebbe rappresentare una significativa perdita di leadership nello spogliatoio. Inoltre la Juventus dovrebbe valutare se rinforzare una diretta rivale in serie sia una decisione strategica o un rischio inutile. Un altro punto che può rendere difficile la negoziazione sono i termini finanziari. Anche se il contratto di Danilo è prossimo alla scadenza, restano i dettagli riguardo un possibile compenso di trasferimento e, ovviamente, lo stipendio del giocatore. Il Napoli cerca una trattativa low cost, ma dovrà trovare un equilibrio per non perdere l'occasione di portare un rinforzo così prezioso. L'arrivo di Danilo porterebbe al Napoli una serie di vantaggi immediati. Innanzitutto aggiungerebbe spessore alla rosa, cosa fondamentale per una stagione che richiede il massimo rendimento in Serie A, Coppa Italia e competizioni europee. Inoltre, la sua esperienza nelle partite importanti e la sua capacità di guidare potrebbero fare la differenza nei momenti decisivi. Tatticamente Danilo è un giocatore estremamente versatile. Può giocare come difensore centrale, terzino destro o anche come centrocampista difensivo, a seconda delle esigenze della squadra. Ciò conferisce a Conte una preziosa flessibilità tattica, consentendo aggiustamenti durante le partite senza la necessità di sostituzioni. Infine, la presenza di Danilo potrebbe essere utile anche per la crescita dei giovani del Napoli. La sua esperienza internazionale e il suo atteggiamento professionale servirebbero da esempio per i talenti, emergenti nel cast, creando un ambiente di costante apprendimento ed evoluzione. Se da un lato il Napoli deve solo vincere, la Juventus rischia di subire conseguenze negative con l'addio di Danilo. Pur non essendo un titolare assoluto, è comunque un leader della rosa e un giocatore affidabile nel momento del bisogno. La sua assenza potrebbe rendere il settore difensivo più vulnerabile, soprattutto se non ci sarà un sostituto adeguato. Inoltre, vendere Danilo al Napoli sarebbe la dichiarazione che la Juventus è disposta a rinforzare una diretta concorrente. La cosa potrebbe non piacere ai tifosi bianconeri, già insoddisfatti della scarsa competitività della squadra nelle ultime stagioni. Il potenziale approdo di Danilo al Napoli non è solo una questione tecnica o tattica. Porta un maggiore simbolismo nel calcio italiano. Parliamo di un trasferimento che inciderebbe sulla rivalità tra Napoli e Juventus, due club che, storicamente, si contendono l'egemonia in Serie A. Vedere un giocatore del calibro di Danilo, che un tempo guidava la rosa bianconera, lasciare Torino per il Napoli è qualcosa che attira sia speculazioni che polemiche. La posizione di Antonio Conte è chiara, vuole il brasiliano. Nella sua filosofia di gioco sono fondamentali difensori versatili ed esperti, soprattutto nelle competizioni di alto livello. Con Danilo Conte avrebbe la possibilità di attuare varianti tattiche in grado di confondere gli avversari e rendere il Napoli ancora più imprevedibile. E non si può ignorare l'impatto psicologico che un simile ingaggio avrebbe sul cast. I giocatori più giovani, come Buongiorno, trarrebbero sicuramente beneficio dalla vicinanza di un atleta che ha giocato la finale di Champions League e ha rappresentato il Brasile nelle principali competizioni. Se analizziamo la storia di Conte è possibile prevedere come verrebbe utilizzato Danilo. L'allenatore italiano è noto per la sua predilezione per sistemi difensivi robusti ma flessibili, capaci di adattarsi rapidamente alle esigenze del gioco. Con Danilo il Napoli potrebbe muoversi tra una linea di quattro difensori e una linea di tre, a seconda della strategia. Inoltre, il brasiliano è noto per la sua capacità di avviare le azioni della difesa, con passaggi precisi e un'accurata lettura del gioco. Questo è qualcosa che è mancato al Napoli in alcune partite di questa stagione, soprattutto contro avversari con un alto pressing. Danilo non solo rafforzerebbe la difesa, ma aggiungerebbe anche una nuova dimensione all'attacco, aiutando con transizioni rapide della palla e potenzialmente fungendo da organizzatore secondario. Un altro punto importante è la leadership. Nonostante il Napoli possa già contare su figure come Ramani e Buongiorno, l'inserimento di Danilo nello spogliatoio porterebbe una dose extra di esperienza e autorevolezza, cosa sempre gradita in una squadra con così grandi ambizioni. Il possibile trasferimento di Danilo provocherà inevitabilmente reazioni polarizzate. Tra i tifosi del Napoli c'è un misto di entusiasmo e scetticismo. Da un lato in molti riconoscono il valore del brasiliano e lo vedono come un tassello fondamentale per i gol della squadra. D'altronde c'è chi si chiede se Danilo sia ancora all'apice della carriera e se non sarebbe una buona idea. Investire su un giocatore che è nella fase finale del suo contratto con la Juventus. Dalla parte della Juventus i pareri sono equamente divisi. Mentre alcuni tifosi pensano che Danilo abbia già adempiuto al suo ruolo nel club e che la sua partenza aprirebbe. Spazi a nuovi talenti, altri credono che liberare il brasiliano sarebbe un errore. Strategico, soprattutto per un rivale diretto. Qualunque sia l'esito di questa trattativa, è innegabile che avrebbe un impatto significativo sul calcio italiano. Se Danilo dovesse davvero arrivare al Napoli, manderebbe un messaggio chiaro. Il club è disposto a fare qualsiasi cosa per consolidare la sua posizione di potenza in Serie A e sulla scena europea. Per la Juventus, invece, la partenza di Danilo rappresenterebbe un momento di riflessione. Il club dovrà decidere se è veramente impegnato a ricostruire la propria rosa o se è disposto a lasciare andare. Giocatori chiave in nome di un rinnovamento completo. Inoltre, questo trasferimento potrebbe ispirare anche altri giocatori a prendere in considerazione mosse simili. Il calcio italiano, nel suo insieme, trarrebbe beneficio da trattative come questa, che aumentano la competitività tra i club e attirano ancora più attenzione sulla Serie A. Per ora tutto è ancora nel campo delle speculazioni. Ma le prossime settimane saranno decisive. Se la Juventus decidesse di liberare Danilo, il Napoli dovrà agire rapidamente per assicurarsi l'ingaggio prima che altri club entrino nella mischia. Allo stesso tempo, sarà interessante vedere come Antonio Conte e il suo staff tecnico intendono integrare il brasiliano nella rosa. Danilo arriverebbe direttamente da titolare? Oppure verrebbe utilizzato come pezzo di rotazione, preservandolo per le partite cruciali? Un'altra questione importante è l'impatto finanziario di questa negoziazione. Anche se il Napoli sta cercando una soluzione low cost, è possibile che i dirigenti debbano aprire un po' di più le casse per mettere al sicuro l'affare. Il ritorno tecnico e tattico compensa questo investimento? In definitiva, il possibile approdo di Danilo al Napoli è più di un semplice trasferimento. È una mossa strategica che potrebbe ridefinire il corso della stagione. Per i tifosi azzurri è l'augurio di vedere la squadra sempre più competitiva, con giocatori che uniscano talento, esperienza e leadership. E tu, tifoso, cosa ne pensi di questo possibile acquisto? Danilo sarebbe il tassello mancante per portare il Napoli ad un nuovo livello o sarebbe meglio cercare alternative, sul mercato? Lascia la tua opinione nei commenti, perché anche la tua voce fa parte di questa discussione. Se non sei ancora iscritto al canale Notizie di Napoli, cogli subito l'occasione per entrare a far parte della nostra community. Qui potrai rimanere aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo del Napoli, con approfondimenti, notizie esclusive e, ovviamente, tanto amore per la squadra. Ci vediamo nel prossimo video. E, come sempre, forza Napoli sempre!